Assessore siamo nel pieno della settimana europea della mobilità, oggi ci troviamo da Doctor Bike, bici elettriche, quindi una città sempre più pronta verso la mobilità sostenibile. Sì, non soltanto bici elettriche ma anche e soprattutto cargo bike elettriche che aiutano la logistica del primo e dell'ultimo miglio della quale la nostra città ha grande bisogno e soprattutto fatto in collaborazione con la comunità europea e con il progetto MU21 che ci ha finanziato con Roma Servizi per la Mobilità e appunto con Doctor Bike che ringrazio molto. Questo è un primo passo che dovremo fare verso la riorganizzazione complessiva della logistica in città che deve avere diverse rotture di carico, i grandi mezzi non possono arrivare in centro storico e soprattutto a servire i negozi al dettaglio e anche i condomini e quindi le cargo bike sono una soluzione importante che dovremo sempre di più implementare. Ci hanno parlato anche di questa assistenza per le bici, mi sembra una cosa importante, abbiamo assistenza ormai per tutti, la bici che rimane per strada finalmente può essere anche assistita e recuperata? Assolutamente sì perché il crescente numero di ciclisti in città e dunque di biciclette comporta anche che qualcuno possa avere problemi e il fatto che ci possa essere un meccanico itinerante di bici penso che possa essere utile per tutti gli utenti, per tutti i ciclisti che speriamo possano crescere in maniera consistente nella nostra città.